Al mio segnale, scatenate l'inferno. A tre settimane da oggi, io mieterò il mio racconto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrate i ranti, seguitemi! Se vi ritroverete soli, a cavalcare su 20 braterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete dei campi elisi e sarete già morti! Fratelli! A mio segnale, scatenate l'inferno. Fratelli! Ciò che facciamo in vita, riechietta nell'eternità. Ti chiamo Massimo Detimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, serbo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Madre di un figlio assassinato, marito di una moglie mucisa, e trova la mia vendita. In questa vita o nell'altra, in questa vita o nell'altra, al mio segnale, scatenate l'inferno. Madre di un figlio assassinato, marito di una moglie mucisa, Nella vita o nell'altra, in questo modo, Ero migliore perché uccidevo velocemente. Ero migliore perché la folla mi amava. Conquista la folla e conquisterai la libertà. Conquisterò la folla e darò qualcosa che non ho mai visto prima. Al mio segnale, scatenate all'inferno. Fratelli! A tre settimane d'oggi, io vienerò il mio racconto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà sarà. Serrate i racconto, seguitemi. Se vi ritroverete soli, a cavalcare diversi braderie col sole sulla faccia. Non preoccupatevi troppo, perché sarete dei campi elisi. E sarete già morti! Sarete già morti! Sarete già morti!